Buongiorno, diamo lettura dei verbali della seduta precedente, leggo solo l'oggetto approvazione verbale della seduta precedente, esame di approvazione e rettifica del mio punto della gestione esercizionale finanziaria 2012, determinazione all'induzione 2013, approvazione e modifica dell'articolo per il regolamento comunale per la disciplina dell'imposto municipale unica IMU, che è il famoso per i disafili, approvazione e piano per la rinnovazione delle valorizzazioni immobiliari, essenzia della normativa licente, approvazione e regolamento per le istituzioni e l'amministrazione, valuto comunale più che sui servizi TAES, approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio e di gestione dei risultati urbani, insomma la determinazione delle tariffe della CAES, la determinazione della ricordata di generale IRPE 2013. se vi sono osservazioni che le varie hanno depositati negli atti del Consiglio, se non vi sono osservazioni, con due votazioni favorevoli? C'è un'ottima situazione. Eh, passassimente, la stimola, sì ma? Sì sì, ma che era assoluta, quindi però favorevoli sei, assoluti uno, non capiente. Contrari, nessuno, l'immediata esecutività, non si posserà.